carissimi fratelli sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno oggi meditiamo il vangelo di matteo capitolo 9 versetti 1 a 8 in quel tempo salito su una barca gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città ed ecco li portavano un paralitico disteso sul letto gesù vedendo la loro fede disse al paralitico coraggio figlio ti sono perdonati i peccati allora alcuni scribi dissero tra sé costui bestemmia ma gesù conoscendo i loro pensieri disse perché pensate cose malvagie nel vostro cuore che cosa infatti è più facile dire ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati alzati disse allora al paralitico prendi il tuo letto e va a casa tua ed egli si alzò e andò a casa sua le folle vedendo questo furono prese da timore e resero gloria a dio che aveva dato un tal potere agli uomini parola del signore questo brano ha il suo parallelo anche nel vangelo di marco marco ha più dettagli che matteo ha dimenticata per andare soltanto a l'essenziale per esempio che non c'era posto per passare davanti alla porta hanno scoperto il tetto hanno fatto calare il malato davanti a gesù insomma sono dei dettagli che marco racconta ma matteo ha fatto finta di questi dettagli allora qual è l'essenziale di matteo raccontandoci questo episodio lui punta sull'identità di gesù non è tanto il miracolo che gli interessa ma mettere in luce la persona di gesù cristo non dimentichiamo chi fa parte della comunità di matteo sono dei giudei che sono convertiti al cristianesimo dunque matteo approfitta dunque di questa catechesi questo insegnamento per mettere in luce la figura di gesù cristo non è qualsiasi persona ma è lui che ha il potere di cancellare rimettere il peccato appunto che da questa parola c'è stata una reazione da parte degli scrivi ma costui bestemmia come può perdonare solo dio che può perdonare allora se solo dio che può perdonare i peccati allora colui che ha perdonato chi potrebbe essere se non dio ecco l'obiettivo diciamo di di matteo però gesù cancela dunque il il peccato di questo questo malato e poi anche all'epoca secondo il pensiero dell'antico testamento del vecchio testamento la malattia era legata o collegata al peccato più ai peccati e più c'è la malattia diventa grave se sei malato vuol dire che hai peccato gesù combina tutte e due per curare guarire per dimostrare la sua persona chi è lui gesù cristo ecco carissimi quello che matteo vorrebbe inserci invitandoci giustamente a capire che solo gesù che può perdonare i peccati non il sacerdote il sacerdote lo fa nel nome del signore gesù nel nome di cristo perché tanti di noi non vogliono più confessarsi perché dicono perché devo andare a raccontare la mia vita davanti a un sacerdote che anche peccatore come me hai detto bene un sacerdote dunque non è più qualsiasi persona sta agendo nel nome di cristo non è più lui ma è cristo che agisce in lui esattamente quando celebra la messa il sacerdote non è più lui ma è il sacerdote e gesù cristo che sta celebrando la messa dunque non dobbiamo esitare oppure cancelliamo questo modo di pensare che non posso andare davanti a un sacerdote perché lui è peccatore come me dunque non mi può perdonare avete già sentito un sacerdote dire nel mio nome io ti perdono i tuoi peccati no io ti perdono nel nome del padre del figlio e dello spirito santo che perdona dunque questo è un invito per ciascuno di noi di capire meglio la confessione è una dimensione che viene dal signore è un sacramento di guarigione non dovremmo non dobbiamo esitare e ci sono anche delle malattie che possono essere guarite dopo aver fatto una profonda vera sincera confessione perché tanti anche vanno a confessarsi raccontando la vita loro o parlando della vita degli altri a quello mi ha fatto questo quell'altro no parla di te non parlare degli altri devi parlare di te sei tu che deve dire al signore che cosa ha rotto l'amore che esiste tra te e dio tra te e il tuo prossimo ecco carissima allora da lì la guarigione ci sarà vorrei concludere anche nel dire sicuramente siamo tutti siamo 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 da da qualche parte anche i paralitici e la paralisia che noi abbiamo non è tanto è fisica ma piuttosto morale e spirituale quante volte pensiamo fare delle cose ma non la riusciamo la pigrizia subentra il nostro egoismo subentra il nostro diciamo la nostra chiusura subentra di questo e siamo paralizzati non riusciamo a decolare non riusciamo a fare delle cose e lo siamo tutti paralitici gesù oggi viene a guarire ciascuno di noi ma ti chiede solo una cosa di riconoscere i nostri errori i nostri peccati e soprattutto mettere al centro della nostra vita lui solo lui che è capace di guarirci matteo ha detto ha visto la loro fede la fede di quelli che hanno accompagnato il malato e poi la fede del malato sicuramente dunque qui troviamo anche una dimensione comunitaria aiutiamoci gli uni gli altri gli ammalati non devono essere abbandonati curiamo i nostri malati facciamo ciò che possiamo fare per dare a loro la guarigione sempre nel nome di cristo vi auguro una buona e santa giornata che dio vi benedica sempre